Maltagliati e fagioli, uno dei miei piatti preferiti. Impastiamo acqua e farina, lasciamo riposare per 20 minuti e stendiamo le sfoglie. La sfoglia deve essere di mezzo millimetro e a questo punto tagliamo a zigzag. Lasciamo ricrescere i fagioli, facciamoli bollire e prepariamo il sugo con cipolla, sedano e pomodori. Calate la pasta e se riuscite a prepararlo all'aperto avrà un sapore ancora più speciale, un piatto della tradizione intramontabile. Versate i maltagliati nel sugo, aggiustate con l'acqua di cottura e godetevi questa delizia. Ci vogliamo mettere un po' di acqua?